Il primo set l'abbiamo preso abbastanza bene, poi il loro pivot con le palle al volo ci ha messo un po' in difficoltà, poi la stanchezza sul secondo è stato il fattore che ci ha spezzato un po' le gambe francamente. L'abbiamo messa tutta ancora una volta, però non è andata a buon fine nemmeno questo giro. Vedremo di raccogliere le forze e di riprovare ancora di nuovo contro la Svezia.